Buongiorno a tutti. 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 Sì, 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 sì Ciao, 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 ciao Sassi, i tuoi prendere Sassi, i tuoi prendere Noi la seconda è preparata Un pezzi di 88 kg Un pezzi di città Un pezzi di Bermond Eric Lender Sassi, vedi, vedi Sassi, vedi, vedi Sassi, vedi, vedi Vedi, vedi, vedi Vedi, vedi 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 Sassi, vedi Giorno, 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 Giorno.